Namaste, buona festa della donna. Oggi è la giornata internazionale della donna, si celebra questa che è una festa per me un pochino strana. Non ne capisco molto il senso da un punto di vista, perché per me bisognerebbe celebrare l'essere umano in genere, non la donna, non l'uomo, non le razze, però mi rendo conto che troppo, troppo c'è ancora da fare. Esistono posti in cui le donne ancora vengono viste sole ed esclusivamente come oggetti, esistono ancora posti di lavoro dove lo stipendio di una donna è più basso, esistono ancora donne che si sottomettono a cose che non gli stanno bene, per cui accettano condizioni che non amano, che non gli piacciono, semplicemente per esigenza e per bisogno. In un mondo come questo abbiamo bisogno ancora di questa giornata ed è per questo che oggi ti ricordo un principio fondamentale, che è quello dell'amor proprio. Che tu sia donna, che tu sei uomo o di qualsiasi altro genere, impara semplicemente ad amarti e a rispettare te stesso prima di tutto e a farti rispettare dagli altri. Il mondo è sicuramente difficile, i generi esistono, esistono le differenze, ma tu puoi fare la differenza semplicemente imparando ad amarti e a farti amare per quello che sei, senza accettare cose che non ti piacciono affatto. Per cui buona giornata della donna, buona festa della donna, soprattutto alle ragazze più giovani, perché sappiate che c'è un mondo che potete prendere a morsi. Namaste.